Viaggio virtuale al centro della Via Lattea con una guida d'eccezione, la sonda Chandra della NASA. I dati raccolti dall'osservatorio e da altri telescopi, tra cui VLT dell'ESO, sono stati utilizzati per realizzare un video che mostra con grande varietà di dettagli le caratteristiche della nostra galassia. Il filmato cattura le immagini di 30 stelle massicce, le Wolf Rite, che orbitano a circa 1,5 anni luce dal centro della galassia e perdono massa a ritmi elevati a causa dei potenti venti interstellari della regione. Gli astronomi sono interessati ad avere maggiori informazioni sulle interazioni tra le stelle e Sagittario A, il buco nero supermassiccio al centro della galassia. Lo spettatore inizia il viaggio proprio da qui, dove è in grado di osservare circa 20 stelle Wolf Rite, che orbitano intorno al buco nero producendo poderosi venti stellari che si scontrano tra loro. La forte gravità di Sagittario A attira materiale verso il suo interno e le forze di marea prodotte lo sottigliano sempre di più, mentre si avvicina al centro del buco nero. Lo stesso Sagittario A ha un forte impatto sull'ambiente circostante. Le esplosioni occasionali nelle sue vicinanze provocano l'espulsione di materiale che può contribuire all'eliminazione di parte del gas prodotto dai venti stellari.